Il 4 marzo del Vittorio 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 In quel momento noi abbiamo la possibilità di vedere il più giovane vincitore delle elezioni che è Luigi Di Maio che potrebbe quindi diventare il più giovane presidente del Consiglio nella storia repubblicana e nello stesso tempo il più giovane leader di un paese del G7 Insomma tutti pensano che Di Maio sia il predestinato e d'altronde lui ha sempre lavorato con questo obiettivo Eppure no, non succede nulla di tutto questo Iniziano le trattative, le trattative sono come si dice su due forni Da una parte il movimento guarda al PD E una parte del suo gruppo parlamentare guarda al PD Ma è un PD renziano ancora E' un PD in cui il segretario è Matteo Renzi L'arci nemico, no? Ed è un PD annichilito dalla sconfitta Dall'altra parte invece le assonanze più forti sono con la Lega di Matteo Salvini E' uno dei tanti risultati del cambio, come abbiamo detto, di geopolitica che fin dal 2014 viene impresso al Movimento 5 Stelle Alla fine si trova un accordo E l'accordo con un contratto di governo un po' ricorda quello di Silvio Berlusconi siglato negli studi della RAI L'accordo prevede una maggioranza del tutto nuova, inedita Una Lega a 5 Stelle La possiamo definire così Ma se questo è il primo traguardo raggiunto ce n'è un altro Chi farà il Presidente del Consiglio? Per settimane il duello è ovviamente fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio La logica ci dovrebbe dire che non c'è partita Non ci dovrebbe essere partita E ancora una volta la realtà invece smentisce questo semplice ragionamento Veti e controveti portano uno sconosciuto avvocato di provincia Ad entrare a Palazzo Chigi Chi è allora lo sconfitto? E chi è il vincitore? Con un pizzico di perfidia possiamo dire che il vincitore delle elezioni è senza dubbio Luigi Di Maio Ma lo stesso Luigi Di Maio è il più grande sconfitto del postelezioni E con altrettanta perfidia possiamo dire che forse non ne siamo sicuri Tra quelli che furono felici del mancato ingresso di Luigi a Palazzo Chigi Fu proprio Davide Casaleggio Per un motivo molto semplice Se Luigi un giorno avesse deragliato dalla linea imposta dal giovane fondatore del Movimento 5 Stelle Davide Casaleggio Sarebbe stato impensabile che lo stesso Casaleggio l'avrebbe potuto espellere Tolto questo problema Luigi diventa ministro e il suo potere è evidentemente mutilato Luigi Di Maio ottiene da candidato presidente del Consiglio e da leader del Movimento 5 Stelle Un risultato straordinario Il 33% dei voti È un risultato anche quasi insperato Ed è un risultato che gli dovrebbe consentire in teoria Di entrare a Palazzo Chigi da presidente del Consiglio Diventa presidente del Consiglio Giuseppe Conte invece E il motivo per cui nonostante sia una persona totalmente sconosciuta agli elettori Quasi sconosciuta agli elettori del Movimento 5 Stelle Gli attivisti del Movimento 5 Stelle accettano questa decisione È che in un certo modo Giuseppe Conte incarna il sogno e l'obiettivo originario di Gianroberto Casaleggio Di portare sconosciuti e cittadini normali nelle stanze dei bottoni Giuseppe Conte agli occhi degli attivisti del Movimento 5 Stelle È forse la scelta perfetta, ancora più accettabile di Luigi Di Maio Che da alcuni viene visto come il giovane politico a rivista Un po' democristiano Che è riuscito a cavalcare l'onda del successo del Movimento 5 Stelle E diventarne il capo Ecco, per una parte del Movimento 5 Stelle Oltre che per Davide Casaleggio Il fatto che Luigi non diventi presidente del Consiglio È quasi un successo nel successo Col Movimento 5 Stelle al governo L'attenzione si concentra sui leader e sulla struttura del primo partito Che governa il paese Tra i leader c'è ovviamente Davide Casaleggio Davide è il presidente della propria azienda Casaleggio Associati È il presidente dell'associazione Rousseau Che amministra tutti i processi del Movimento 5 Stelle Dalla selezione delle liste Alla raccolta dei voti degli attivisti E per questo si fa pagare una cifra importante 300 euro per ogni parlamentare ogni mese Una cifra che con il numero di parlamentari che vanta il Movimento In quel momento siamo intorno ai 5 milioni di euro all'anno Ed è anche il presidente dell'associazione Gian Roberto Casaleggio Che organizza una commemorazione del defunto leader Ogni anno in occasione dell'anniversario della sua morte Questa manifestazione diventa per Davide Un'occasione di affermare il proprio potere A questa manifestazione partecipano le elite del paese Le elite finanziarie, le elite industriali Magistrati, giornalisti importanti Il potere è lì Il potere passa sul palco di Sum ogni anno Per tutti gli anni che il Movimento 5 Stelle è al governo È l'occasione per Davide anche Di mostrare la nuova geopolitica del Movimento 5 Stelle Nella primavera del 2018 Mentre ancora fervevano le trattative Su chi dovesse essere L'uomo che avrebbe occupato la poltrona di Palazzo Chigi In nome di questa alleanza Di questo nuovo partito trasversale La Lega 5 Stelle A Roma sbarca un ideologo americano Ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Si chiama Steve Bannon Ed è lo stratega di Donald Trump Bannon non è un uomo riservato Solitamente Infatti rilascia molte interviste Una in particolare La rilascia al quotidiano La Repubblica Dove benedice questa alleanza Quella fra la Lega e il Movimento 5 Stelle Dice con chi si è incontrato Fa i nomi delle persone Degli esponenti della Lega con cui si è incontrato Poi parlando del Movimento Dice sono dei bravi ragazzi Ma non dice con chi si è incontrato Qui possiamo raccontare una storia Una storia indicativa Che ha una caratteristica tipica del Movimento 5 Stelle I passaggi fondamentali Vengono resi non conoscibili Steve Bannon incontra in gran segreto Nello studio di un professionista romano Proprio Davide Casaleggio Non Luigi Di Maio Davide Casaleggio Fra i due qualche legame C'è Steve Bannon è stato uno degli strateghi di Cambridge Analytica Una società angloamericana Che ha lavorato Sulla profilazione degli elettori inglesi Durante la campagna referendaria della Brexit Che ha lavorato con altre aziende Simili a Cambridge Analytica Nei Stati Uniti Combattendo ad armi pari E vincendo Nella elezione del 2016 Che vedeva contrapposti Hillary Clinton e Donald Trump Questo è il punto di contatto Professionale Più forte Fra Il figlio di Gian Roberto E l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Della Casa Bianca Ce ne sono altri punti di contatto La stima Per esempio Per il leader russo Vladimir Putin Insomma La loro geopolitica È molto simile Eppure come vi dicevo Questo incontro Non sarà reso pubblico In realtà Nonostante questi punti di contatto Chi ha assistito all'incontro Durato Meno di un'ora Fra Bannon e Davide Casaleggio Racconta che i due Non si sono proprio capiti Di lì a poco Nascerà il governo Conte Che si caratterizzerà Per alcuni Importanti Provvedimenti Il primo è quello Sull'immigrazione clandestina Un vecchio cavallo di battaglia Come vi abbiamo raccontato Di Gian Roberto Casaleggio L'altro Sul reddito di cittadinanza Altro grande Cavallo di battaglia Del Movimento 5 Stelle E dello stesso Gian Roberto Eppure I due Alleati di governo Che tanto Hanno in comune Mostrano agli elettori Una Conflittualità Non sempre Latente Altre volte Evidente Una conflittualità Dettata Da una Lotta Tra Leadership Io voglio fare I miei complimenti E ringraziare Le forze di polizia Di questo paese Per aver Trovato Colui che è stato Il responsabile Dell'attacco hacker Alla piattaforma Russo Questa estate Però Devo anche dire Che un attacco hacker Di quella portata Richiede delle ingenti Risorse economiche E per questa ragione Noi vogliamo conoscere I mandanti politici Non ci accontentiamo Di questa dichiarazione Abbiamo appena ascoltato In cui si dice Volevo testare L'affidabilità Della piattaforma Ma chi ci crede Il pubblico In quel momento Conosce Davide Casaleggio Come Il tecnico Della piattaforma Noi lo sappiamo Che non è così Ma la propaganda Del Movimento 5 Stelle Da un lato Cerca di Sostenere La leadership Di Luigi Di Maio La leadership Politica Di Luigi Di Maio E dall'altro Cerca di nascondere Questo conflitto Di interessi Che caratterizza Il sistema Casaleggio Questa commistione Tra azienda Privata Gestione Del partito Soldi Che arrivano Dai parlamentari Verso L'associazione Rousseau E Questa Associazione Gianroberto Casaleggio Che organizza Questi incontri Non soltanto A Ivrea Ma anche in giro Per l'Italia Poco prima Delle elezioni Per il sindaco Di Roma Con alcuni Stakeholder Importanti Della capitale Ma il vero potere Di Davide La vera Influenza Di Davide La vera Trazione Di Davide Sul partito Ce la svela Un evento Che Per chi si occupa Di informatica Era soltanto Un evento In attesa Di accadere Nell'estate Del 2018 La piattaforma Informatica Rousseau Subisce Un attacco E i dati Della piattaforma Vengono resi pubblici La violazione Di sicurezza E ai danni Non soltanto Della piattaforma Rousseau Ma anche Del blog Di Beppe Grillo Vengono resi pubblici Anni Di Votazioni Della piattaforma Rousseau Vengono resi pubblici Chi sono gli amministratori Della piattaforma Vengono resi pubblici Alcune password Addirittura Della piattaforma Sappiamo che Davide Casaleggio Il tecnico informatico Della piattaforma L'uomo Della tecnologia L'inventore Del sistema di voto Del Movimento 5 Stelle Utilizza la password Davi Davi Ma questa è una violazione Informatica Molto seria Molto seria Perché La piattaforma Rousseau È la piattaforma Che governa il paese In quel momento E la piattaforma Attraverso il primo partito Di governo Amministra La propria vita politica È la piattaforma Che seleziona i candidati È la piattaforma Che seleziona Le proposte di legge È la piattaforma Che determina La vita e la morte Dei governi del paese È un problema Di sicurezza nazionale Ed è un problema Di privacy Ed è proprio Il garante Della privacy Che a seguito Di questa Intrusione informatica Apre un'indagine Le carte Dell'indagine Che trova Luciano Capone Del Foglio Rivelano Il potere Di Davide I fatti Contenuti In queste carte Sono incontrovertibili Il primo L'associazione Russo Che Rappresenta Il potere Politico Il braccio Politico Di Davide Viene fondata Da Gianroberto Casaleggio E da Davide Casaleggio Suo figlio Ma viene fondata Sul letto di morte Di Gianroberto Poche ore prima Della sua morte Gianroberto Conferma Questo passaggio Ereditario Di padre in figlio Del potere E del partito Il secondo fatto È che sì C'è una commissione Tra L'azienda Gli interessi economici Di Davide Casaleggio E il partito La commissione Si rivela In un passaggio In particolare Il garante Della privacy Chiede Della documentazione A Casaleggio Associati In relazione Alla gestione Della piattaforma Russo Casaleggio Associati Nella figura Del presidente Davide Casaleggio Risponde Di non essere Responsabile Della piattaforma Ma che Ci si deve riferire All'associazione Russo Presieduta Da Davide Casaleggio Il garante Quindi chiede All'associazione Russo Di Davide Casaleggio Lumi E informazioni Sulla piattaforma Arriva la risposta Ma la risposta Arriva Dalla posta elettronica Certificata Di Casaleggio Associati Il terzo fatto È il più inquietante Di tutti Dai database Della piattaforma Russo Si evince Che i dati Non sono Crittati I tecnici Della piattaforma E Davide Casaleggio Ovviamente Sono in grado Di risalire Per ciascun voto A chi lo ha espresso Quando Se l'ha espresso Se non l'ha espresso Quanto è attivo Quali sono Le preferenze Rispetto ai leader Quali sono le preferenze Rispetto alle proposte Di legge A questo si associa Il database Del blog di Beppe Grillo Che a questo punto È diventato Blog delle stelle Perché anche Beppe Grillo Si è sfilato Da questa situazione E il blog di Beppe Grillo Il database Del blog di Beppe Grillo Rivela che Non soltanto I parlamentari Gli attivisti Ma anche Tutti i lettori Del blog Sono profilati C'è uno storico Di tutto quello Che gli attivisti Hanno fatto Nel corso degli anni Hai partecipato Al primo V-Day Il database Lo riporta Hai fatto una donazione In occasione Della Woodstock 5 stelle Il database Lo riporta Davide Casaleggio È in grado Di profilare Non soltanto Gli attivisti Non soltanto I parlamentari Ma perfino I ministri Della Repubblica Che appartengono Al Movimento 5 stelle Questa è l'origine Del potere E dell'influenza Di Davide Casaleggio Luigi lo sa Ed è per questo Che è con Davide Casaleggio Che stringe l'accordo Alla morte Del padre di Davide Siamo a un giro Di boa Quando il potere Di Davide Casaleggio Viene svelato Nelle modalità E nei tempi Che vi abbiamo raccontato Qualcuno A Roma Si fa venire Un'idea Un'idea Folle Sfilare Il partito Al suo fondatore Vale a dire A Davide Casaleggio Noi non sappiamo A chi è venuta Questa idea Ma conosciamo Perfettamente I tempi La prima tappa Di questo progetto Folle Sono le dimissioni A sorpresa Di Luigi Di Maio Da capo Del Movimento 5 Stelle Quella dei rapporti Con Casaleggio E con Rousseau È umanamente Molto molto dolorosa Perché Per quello che ci lega A quella persona A suo padre E alla storia Che abbiamo condiviso In così tanti anni Io continuo a sperare Nonostante le parole Di Conte Siano Facendo capire Che la soluzione amichevole Sia oramai Lontana Io continuo a sperare Dal profondo Del cuore Che ci possa essere Una riappacificazione Perché tra persone Per bene Che lavorano Per il paese All'interno Di questi palazzi Del potere Che mettono a disposizione Di forze politiche Come la nostra Degli strumenti Di decisione Importante Di democrazia diretta Non si possa litigare È veramente Una contraddizione Nei termini È accaduto È capitato Il momento è complicato Il momento è che ci nascondiamo È ovvio che gli iscritti Siano del Movimento 5 Stelle Non di Russo Per la prima volta Nella storia del Movimento 5 Stelle La partita non è più a due Ma a tre Da una parte Da una parte c'è Luigi Di Maio Si è appena dimesso Da capo politico Il Movimento 5 Stelle E questa è la prima volta Che con questa mossa Sorpresa Manifesta tutto il disagio Politico e personale Per la creatura Che lui Insieme con altri Ha Fatto crescere Ha modellato Ha plasmato A sua immagine E somiglianza Luigi si mette da parte Ma ciò non significa Che si ritiene uno sconfitto Lo vedremo Perché Dall'altra parte C'è Davide Casaleggio Il cui potere Come vi abbiamo raccontato È stato svelato Anche con aspetti Farseschi Ridicoli Divertenti Chi è il terzo incomodo? È Giuseppe Conte Perché è il terzo incomodo? Perché ha Palazzo Chigi Perché non è Un iscritto del Movimento E perché è Un uomo Che non proviene Da quella storia Quindi Non sente Certi condizionamenti Che altri Come ad esempio Luigi Di Maio Possono subire La sua popolarità È in ascesa Perché è in ascesa? Perché il suo Trasformismo politico Rivela Una Duttilità Che lo fa Apparire Sì alleato Di Salvini Ma un alleato Non troppo convinto Nel momento in cui Giuseppe Conte Vede L'attivismo La concorrenzialità Della leadership Di Salvini Che mira Come poi sapremo Da tempo Ai pieni poteri A far Implodere Questa Alleanza E A prenderne i frutti Giuseppe Conte Ritorna Alle sue origini Quali sono Le origini Di Giuseppe Conte? Giuseppe Conte Nasce Politicamente Non soltanto Nello studio Alpa Che è uno degli studi legali Più potenti In Italia Ma cresce anche In un edificio particolare Che si chiama Villa Nazareth E che è la Farnesina Il Ministero degli Esteri Del Vaticano E' lì Che conosce Negli anni Cardinali Uomini d'affari Che conosce Il nuovo ordine mondiale Derivante Dal disimpegno Trampiano Dalla concorrenza Commerciale E militare Fra Stati Uniti E Cina E Soprattutto E' lì Che conosce Il ruolo Di cerniera Di frontiera Che il papato Di Francesco Ha impresso Alla Chiesa Cattolica Nel mondo Giuseppe Conte E' quindi Un avvocato Semi sconosciuto Nel mondo Della politica Ma è Un giovane Avvocato Ben Inserito In un sistema Di potere In quell'occasione Mi venne spontaneo Qualcuno lo ricorderà Rilasciare una dichiarazione Rivolta Specificamente Agli amici Del Movimento 5 Stelle Io ci sono E ci sarò Pochi giorni dopo Beppe Grillo Mi chiese Di diventare Leader politico Del Movimento 5 Stelle Poi mi invitò A partecipare A un incontro Lo scorso 28 febbraio All'Hotel Forum A Roma Insieme a Vari esponenti Del Movimento 5 Stelle Per discutere Di questo Mio ingresso Nel Movimento Conte 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 Ha dalla sua Ovviamente L'enorme Esposizione Mediatica Che gli deriva Dall'essere Primo Ministro E quindi Non si sottrae Alla crisi Al momento Al momento di passaggio Del Movimento 5 Stelle E di certo Lui entra in questa partita Fra le dimissioni Quindi di Luigi E il ruolo svelato Di Davide Ecco venire fuori La sua leadership Non più E non soltanto Derivante Dalla sua permanenza A Palazzo Chigi E dagli indici Di gradimento Che attirano Anche Elettori Del PD Che del Movimento 5 Stelle Non vogliono Sentirne parlare Ma apprezzano L'opera Di Giuseppe Conte E quindi Il progetto Di scalare Il movimento Lo vede In prima fila C'è una figura Di cui Non parliamo Da un po' di tempo Ed è Beppe Grillo Non ne parliamo Da un po' di tempo Perché Beppe Grillo In realtà È una figura Che viene utilizzata Dalle leadership Del Movimento 5 Stelle Nei momenti di crisi È la persona Che queste crisi Ha il potere Di dirimere E lo può fare Perché È il titolare Del marchio Del Movimento 5 Stelle Questa è una delle tante Verità Che vengono svelate Dall'inchiesta Del garante Della privacy In seguito All'intrusione Che aveva subito La piattaforma Russo Nel 2018 Un altro fatto Tra i tanti Che viene svelato È che L'organizzazione Del Movimento 5 Stelle È un caos totale Un avvocato Di Roma Nel corso degli anni Ha assistito Tanti attivisti Che erano stati Espulsi Dal Movimento 5 Stelle Perché ritenevano Di essere stati Espulsi Senza ragione E contro i loro diritti Di associati Per risolvere questi problemi Gianroberto Casaleggio Aveva avuto l'idea Di creare Nel corso del tempo Diverse associazioni Con lo stesso nome Movimento 5 Stelle C'è un'associazione Casa da Genova Di cui è titolare Beppe Grillo Insieme a suo nipote E a suo commercialista C'è l'originale Associazione Movimento 5 Stelle O meglio La non associazione Movimento 5 Stelle Come Gianroberto L'aveva chiamata Nel 2013 E c'è un'ulteriore associazione Fondata nel 2017 Da Luigi Di Maio E da Davide Casaleggio E' il nuovo Movimento 5 Stelle E' il Movimento 5 Stelle Che va al governo Alla morte di Gianroberto Beppe Grillo Di fatto affida Un compito a Davide Che è quello di Risolvere Questi problemi Queste Incongruenze Tra le varie associazioni Perché Perché Cominciano ad arrivare Alcune multe A Beppe Grillo Alcuni attivisti Cominciano a vincere Alcune cause E cominciano a ottenere Dei risarcimenti Davide Invece di risolvere Questi problemi Ne crea ulteriori Perché L'esito Di questa inchiesta Del garante Porta A un'altra multa Molto Molto significativa Che colpisce Sia I titolari Del trattamento Dei dati Quindi Beppe Grillo E le varie associazioni Sia L'associazione Russo Che si fa carico Di tutte queste multe Grillo però Ha deciso Che L'associazione Russo Non è più in grado Di gestire Questa macchina E sceglie Il cavallo Su cui puntare Che è Giuseppe Conte Nella primavera Del 2019 Ecce il libro Mio e di Marco Canestrari Dal titolo Il sistema casaleggio In poco meno Di 200 pagine Raccontiamo Tutta La galassia Della casaleggio Associati Che Ormai L'avete capito Si intreccia In maniera Indissolubile Con la storia Del Movimento 5 Stelle Questo libro Pochi giorni Dopo la sua uscita Finisce presentato In prima serata In una nota Trasmissione TV Sulla 7 Ci raccontano Che dall'indomani Importanti dirigenti Ministri E semplici parlamentari Del Movimento 5 Stelle Lo utilizzano Come Strumento Per Imbastire Una lotta Senza quartiere Contro Davide casaleggio E affrancarsi Dalla volontà Di potenza E controllo Dei casaleggio Prima il padre E poi il figlio In quel libro Ci facevamo la domanda Gianroberto Ma soprattutto Dopo Suo figlio Davide Si è comportato Si sono comportati Come lobbisti Pur Non infrangendo Alcuna legge La risposta Che provavamo a dare Sulla base Dei fatti Riportati nel libro Era positiva In tutto questo Panorama Di lotte Intestine Di leadership Che stavano declinando E di altre Che invece Stavano emergendo La procura di Milano Apre un'inchiesta Sulle attività Commerciali A favore Di Un'azienda La Mobi Del signor Onorato Amico personale Di Peppe Grillo E L'ipotesi Che veniva contestata A Grillo Ma anche A Davide Casaleggio Era quello Di traffico Di influenze Illecite L'inchiesta Condotta Dal procuratore Aggiunto di Milano Romanelli Affrontava Proprio La commistione Che raccontavamo Nel nostro libro Cioè Se queste Attività Di lobbismo Fossero O meno Definibili Come Traffico Di influenze Illecite Ovvero Contratti Commerciali Posti in essere Da persone Che avevano Ruoli Politici All'interno Del Movimento 5 Stelle Potevano Presupporre La commistione Di un Reato Ovvero Vantaggi Per il privato Committente In questo caso I vertici Della compagnia Marittima Onorato Con Un passaggio Di denaro I passaggi Di denaro Sono stati Confermati Dall'inchiesta Sia Per un Contratto Di consulenza A favore Della Casaleggio Associati Sia Per una Serie Di post Pubblicati Dal sito Di Beppe Grillo Riconducibile Solo a se Stesso Non più Alla galassia Della Casaleggio Associati Quindi I versamenti Di denaro Sono stati Acclarati Bisogna Risolvere Dirimere La questione È un'attività Di lobbismo Lecito O è un traffico Di influenze Illecite L'inchiesta Proseguirà E stabilirà Con un decreto Di archiviazione Che Davide Casaleggio Ha Esperito Attività Di lobbismo Ma non Si è macchiato Del Reato Di traffico Di influenze Illecite Sarebbe stato Anche Un po' Ironico Perché Il traffico Di influenze Illecite La legge Sul traffico Di influenze Illecite È stata Una delle Leggi Promulgate Durante Il governo Conte 1 Mentre Per Grillo E il suo amico Imprenditore Della compagnia Marittima Onorato È attesa La richiesta Di rinvio A giudizio Secondo L'accusa Il comico Beppe Grillo Avrebbe Perorato Tre fronti Che stavano a cuore Al suo amico Onorato Per consentire Alla compagnia Di navigazione Di conseguire Apriamo virgolette Come dice la sentenza Un indebito Vantaggio patrimoniale A prescindere Da una valutazione Dell'interesse pubblico Grillo Sostiene Il tribunale Di Milano Lo avrebbe fatto Attraverso parlamentari Eletti Per il Movimento 5 Stelle Nominati Ministri Dei governi In carica All'epoca Quindi tra il 2018 E il 2019 I ministri in carica Interessati da Beppe Grillo Sono stati Luigi Di Maio Danilo Toninelli E Stefano Patuanelli In cambio Sostiene sempre Il tribunale di Milano Beppe Grillo Avrebbe incassato 240.000 euro Per contratti Inerenti A contributi Redazionali Per il marchio Mobi Sul suo blog Grazie 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 a Beppe Per le sue parole Io parlo Poco Quindi stasera È una delle pochissime volte In cui Mi vedrete parlare Io mi ricordo Un Famoso slogan Del 1968 Che diceva La fantasia Al potere Ecco Noi abbiamo bisogno Di fantasia E creatività Per uscire Da questa situazione Che è molto peggiore Di quella che forse Voi pensate Però oltre Alla fantasia E alla creatività Abbiamo bisogno Di due cose In più Una È La trasparenza E insieme alla trasparenza L'onestà Insieme all'onestà La competenza Con la trasparenza La competenza E l'onestà Cambieremo l'Italia Senza questa Non cambieremo nulla Quando un leader politico Viene Assolto In un tribunale O addirittura La sua posizione Viene archiviata Dovremmo essere Tutti contenti Eppure c'è un aspetto Che colpisce Il partito Della trasparenza Il partito Che voleva Separare Politica E affari Il partito Che ha Portato avanti E fatto approvare Dal Parlamento Delle leggi Anticorruzione Aveva al proprio interno Anzi al suo vertice In questo caso Davide Caseleggio Un imprenditore Che Grazie Proprio Al suo ruolo Politico Oltre che Quello di imprenditore Ha operato Come un lobbista E questa Non è una bella notizia Per questi motivi La figura di Davide Casaleggio Dopo l'uscita Del libro Il sistema Casaleggio Diventa chiara Non soltanto All'esterno Del Movimento 5 Stelle Ma proprio Tra i parlamentari Del Movimento 5 Stelle Che ignoravano Molto di quanto Io e Nicola Abbiamo rivelato I tempi Sono maturi Perché Il Movimento Romano Completi L'opera E si stacchi Definitivamente Dalla Casa Madre di Milano Giuseppe Conte Con la benedizione Di Beppe Grillo È l'uomo giusto Perché è un avvocato Perché è stato Presidente del Consiglio E perché Grillo Ha deciso Che sarebbe Stato il nuovo Capo Del Movimento 5 Stelle In cambio Di risolvere La grana Casaleggio L'accordo Che trovano È Una transazione In denaro In cambio Dei dati Contenuti Nella piattaforma Rousseau Quindi i dati Degli iscritti Al Movimento 5 Stelle Del vero patrimonio Dell'associazione Rousseau E così Si conclude L'avventura Della famiglia Casaleggio Nella politica Italiana Il virus È un podcast Ideato E prodotto Da me Marco Canestrari Con il prezioso aiuto Di Nicola Biondo È disponibile Su Apple Podcast Spotify E tutte le piattaforme Di podcasting Se ti è piaciuta Questa puntata Lascia una recensione O un commento Sulla piattaforma Che stai usando E condividilo Sui tuoi canali social Io e Nicola Raccontiamo Quello che abbiamo visto Dentro la macchina Del Movimento 5 Stelle Da molti anni Casaleggio Associati Mi ha chiesto Un risarcimento D'anni Davanti al Tribunale Di Milano Se vuoi conoscere Gli ultimi aggiornamenti Di questa vicenda Visita il sito www.processoalsistemacasaleggio.it Grazie a tutti Grazie a tutti